Del culto della Madonna di Stignano si hanno notizie già da un documento del 21 settembre 1231. Tuttavia è nel 500 che il convento prende la sua forma attuale. Del 1515 infatti questa lapide infissa sul lato destro della chiesa. Nel 1560 Papa Pio IV Medici lo affida ai frati minori osservanti. La bella facciata esprime tutto l'equilibrio dell'estetica rinascimentale mentre dai ruglieri si intuisce l'esistenza di un colonnato antistante alla chiesa. La bella facciata esprime tutto l'esistenza di un'esistenza di un'esistenza di un'esistenza.